ciao a tutti bentornati su uscita di emergenza e bentornati alla playlist educare con leggerezza oggi vi parlerò di una cosa veramente interessante una cosa che mi piace tantissimo ovvero vi parlerò di umorismo a scuola e soprattutto se è possibile utilizzare l'umorismo a scuola come prima cosa vi chiedo ma secondo voi l'umorismo può migliorare l'apprendimento ebbene ci sono degli studi che dicono che sostanzialmente in un ambiente dove si ride molto l'apprendimento è nettamente migliore cioè si apprende meglio perché si sta meglio ci si sente meno giudicati quindi sì l'umorismo può assolutamente essere un ottimo aiuto per poter apprendere meglio questo lo dico perché nei processi di apprendimento tenere in considerazione di utilizzare l'umorismo proprio come strumento può essere estremamente d'aiuto ai professori agli insegnanti ma anche agli stessi genitori magari quando devono far fare i compiti ai figli proprio perché li rende più propensi ad apprendere meglio e più velocemente ma che cos'è l'umorismo principalmente l'umorismo è la capacità di cogliere il ridicolo nelle cose di tutti i giorni quindi nella quotidianità di tutti i giorni quindi la capacità di guardare le cose da un altro punto di vista o con occhi diversi sapendo cogliere quelle sfumature magari anche sottili che sono un po ridicoli infatti i bravi comici sono quelli che ci fanno ridere parlando delle cose tutti i giorni il rapporto di coppia il rapporto con i suoceri mutuo la vita politica e quant'altro senza tirar fuori cose astruse ecco sono i comici sono bravi perché hanno quella capacità di guardare in una cosa che realmente sembra normale quotidiana ci vedono qualcosa che fa ridere quindi capite bene che implementare l'umorismo a scuola vuol dire anche affinare nei bambini nei ragazzi delle capacità cognitive molto molto interessanti e soprattutto sviluppare anche la loro intelligenza e sì perché sappiate care professoresse insegnanti o anche famiglie che se avete un figlio o una figlia che a scuola viene come dire un po reputato come quello che ride sempre o che fa ridere anche un po sciocchino bene quel bambino con la bambina quel ragazzo con la ragazza una grandissima capacità perché far ridere gli altri è difficilissimo e vuol dire che ha una intelligenza molto raffinata perché sa cogliere delle sfumature tali per cui i compagni o le compagnie ridono so che questa cosa magari ad alcuni insegnanti piace poco però vi assicuro che è una grandissima competenza quella di far ridere l'altro più semplice farlo piangere qualcuno piuttosto che farlo ridere ve lo assicuro bene quindi è importante che umorismo e scuola stiano insieme il più possibile voglio darvi tre consigli però per aumentare la capacità umoristica dei vostri alunni a scuola o dei vostri figli a casa il primo consiglio sta nel generare spiazzamenti divertenti io parlo tantissimo di spiazzamenti l'ho già detto in altri video generare spiazzamenti vuol dire in qualche modo mettere l'altro una condizione di sorpresa e quindi di maggiore ascolto ovviamente devono essere spiazzamenti che divertono non possono essere spiazzamenti che mettono ansia generare spiazzamento ogni tanto aiuta anche a catturare maggiormente l'attenzione di chi vi ascolta secondo consiglio vi linkerò in descrizione su questo video l'altro video in cui parlavo di come divertirsi con gli accoppiamenti surreali e che non hanno nulla a che vedere con quello che magari alcuni stanno pensando gli accoppiamenti surreali è un'attività di scrittura creativa molto divertente che si può fare in una classe in famiglia tra amici e lo scopo è trovare storie assurde in contesti assurdi se cliccate nel link in descrizione scoprirete di che cosa parlo terzo ed ultimo consiglio giocate con le rime magari in classe in casa ogni tanto fatevi prendere dal raptus di dover parlare in rima magari anche creando delle storie divertenti in rima su quelle che possono essere delle dinamiche all'interno di una classe all'interno della famiglia perché il meccanismo della rima è un meccanismo veramente interessante e divertente soprattutto magari per le associazioni che vengono fuori bene spero che questi tre consigli vi siano stati utili ma soprattutto spero che se magari pensavate di avere delle perplessità sull'utilizzo dell'umorismo a scuola ecco questo video vi abbia fatto un po ricredere utilizzatelo tanto l'umorismo aiuta tantissimo degli apprendimenti noi ci vediamo sempre qui tra una settimana circa sempre su uscita di emergenza e sempre con la playlist educare con leggerezza e vi ricordo che se non ascoltate uscita di emergenza non siete nessuno ciao